A pochi giorni dalla segnalazione di Rossini TV dello scorso venerdì 29 marzo in merito allo stato di dissesto stradale della zona industriale di Via Toscana e Via Lombardia sono già arrivati i primi rattoppi. Il Comune risponde presente alla richiesta di intervento riparatorio su un percorso che nei giorni feriali risulta tanto trafficato quanto disagevole per auto, mezzi pesanti e scooter costretti allo slalom fra buche e crepe profonde. Non ancora un'asfaltatura complessiva ma una serie di interventi volti a riempire e appianare i crateri e le voragini createsi sulla sede stradale che stavano procurando disagi e pericoli, soprattutto anche per il rischio caduta dei ciclomotori, visto che in alcuni casi le crepe spuntavano anche dopo un angolo cieco in piena curva. Segnalazione risolta, almeno parzialmente, segnalazioni che vi ricordiamo potete inviare al numero WhatsApp di Rossini TV 370-366-7210.